Che cos'è? Che cosa vede signora? In questo? Come? Secondo lei cosa sembra? Dica la prima cosa che le viene in mente. Una donna su un cavallo selvaggio? Risposta idiota. Non esistono risposte idiota. Il triangolo al pepe è quello che le ci vuole. Una punta di peperoncino per contrastare la dolcezza. Piccante, avventuroso. E tu cosa vedi? Vedo denti, vedo sangue e un teschio. Molto amaro. È il cioccolato che preferisci. È il cioccolato.